Buongiorno, sono Camilla e studio al lupo. Professoressa Favretto, cosa studia chi fa la magistrale in società e sviluppo locale? Studia discipline sociologiche, psicologiche, giuridiche per la gestione delle imprese, gestione del personale, per analizzare politiche pubbliche e per il funzionariato e la dirigenza dei servizi sociali oppure nelle imprese profit e no profit. Che sbocchi offre questa laurea? Questa laurea offre per la LM87 la possibilità di accedere all'esame di stato per diventare dirigente nei servizi sociali, livello A dell'albo per assistenti sociali specialista. Per quanto riguarda la classe LM88, analista delle politiche pubbliche, delle politiche sociali, funzionariato nella pubblica amministrazione oppure dirigente o funzionario nelle imprese pubbliche e private, nel no profit e in campo socioassistenziale. Perché dovrei iscrivermi qui? Perché noi prestiamo attenzione alla singola esperienza formativa di ogni studente e di ogni studentessa, alle esigenze di vita di ciascuno e alle esigenze di lavoro. In particolare per noi il percorso formativo non è un percorso d'ostacoli ma è un percorso che comprende tappe necessarie ma raggiungibili per raggiungere la meta.